In realtà c'è una course che sort entre il mountain bike e la route, c'è una course che è sul sable, quindi è completamente un'altra cosa, e quindi c'è molto bene, perché c'è la fin di saison, c'è riunito e c'è comunque il milieu del velo, quindi è molto conviviale. Ho fatto molte strade mountain bike, sia con bici d'enduro, discesa e l'XT, non ho mai usato una fat bike, l'ho presa in questo momento e ora andrò a provare il percorso. Avendo queste gomme larghe si può andare anche sulla neve, su altri molti terreni dove la bici normale o la mountain bike non potrebbero andare. Parcours è abbastanza etroile, per i grandi come me, si va a essere giù, soprattutto se mi viene a andare su la route. Qui siamo anche per divertirci, c'è un percorsino bello e divertente, vediamo, ci divertiamo. Devo ancora provarla, sinceramente, l'ho sempre visto e l'ho provata per piccoli tratti, e quindi adesso sono curioso di vedere in un percorso di gara come reagisce la bicicletta. È una specialità appunto specifica e per un stradista è diverso che andare su una mountain bike o una fighter bike, quindi sono qui per divertirmi e stare anche insieme alla gente.